Plagiato dalla ripetizione ossessiva Secondo studi recenti, le comunicazioni di massa non hanno tanto il potere di indurre la gente a pensare certe cose, quanto quello di fissare gli argomenti su cui pensare. È vero? Commento Ripetere ossessivamente gli argomenti su cui pensare equivale a indurre la gente a pensare prima e a scegliere poi quegli argomenti. Chi rimane plagiato dalla ripetizione ossessiva è la massa, ma ai media interessa la massa.